sogni l'abito bianco ma non c'è un matrimonio in vista in giappone hanno trovato la soluzione i single possono salire sull'altare da soli a organizzare il servizio un'azienda nipponica che ti offre due giorni da sogno con book fotografico trucco professionale e bouquet a soli si fa per dire 2000 euro manca soltanto la luna di miele a quella ci pensate voi e con chi volete scherzano gli organizzatori soddisfatti del successo dell'iniziativa